Adesso presentiamo le squadre, presentiamo le squadre in campo e salutiamo Raffaele Lazzardo che è la madrina di questa manifestazione Un applauso a Raffaele Lazzardo Un saluto per adesso, grazie a voi, benvenuti per Scara, siete meravigliosi, grazie di essere qui Grazie a te, tra poco potrai il giocatore, però non vieta in testa Allora, iniziamo a chiamare le squadre in campo in ordine sparso Cominciando dalla portiere, che è Fabio Falcone, della differenza, sonista della band, a tutti ieri L'applauso forte ragazzi, abbiamo usato il gioco Con il piccolo Ferdinando Giordano, del grande fratello, giocherà dal centrocampista Ci sei? Vai! Ciao, buonasera, vai vai vai, l'applauso Ferdinando Non fa niente Poi abbiamo un tronista famoso dei gomini e donne, che è stato anche un giocatore del Pescara Nella stagione 97-98, Sozio Aruta Grazie Abbiamo una centrocampista del campionato di serie B femminile, Veronica Brutti Dal Pro San Bonifacio Veronica c'è? Dov'è Veronica? Fatela passare, fatela passare Vabbè, andiamo oltre, andiamo oltre Arriva Veronica Brutti e non è l'unica donna in questa formazione, perché c'è anche una giocatrice di calcio a 5 Che un anno fa ha vinto lo scurretto con il Montesilvano, Diana Bellucci Eccola, 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 grazie Benvenuti e grazie E poi abbiamo Franco Mortelliti Centrocampista C'è, Franco c'è, eh? L'applauso a Franco E c'è anche l'editore di una radio molto attenta allo spot in Abruzzo Radio Parsifal, Guido Marrone, difensore Dov'è qui? A tutti voi giudate aiutando la causa delle posizioni intercutane del centro Italia Grazie a tutti per essere qui Grazie al dipendente di Alpuglia che ha organizzato questa partita del cuore Grazie all'assessorato allo spot per il Montesilvano e scara che andiamo in città Pannocina, un sogno di Oro e ricavando di questa manifestazione poter farci che ha riuscito alle potere pubblica del centro Italia Grazie a tutti Grazie a tutti Un grande numero, grandissimi risultati Siamo baciati dal tempo Questo vento che si alza e trasporta la nostra forza, la nostra gritta dappertutto ed è uno spettacolo vedere il pubblico e soprattutto sentire l'altra parte dello stadio fare un applauso per i bambini, forza! Grazie a tutti La formazione di Alpuglia è stata allestita per l'occasione Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo, ci sono cacciatori, piloti insomma c'è un bel po' di materiale umano e ci sono curiosi di vedere come si comporterà l'antrappo Ci sono anche campioni mondiali di due stelle Anche a tutti Questo non lo posso garantire Grazie a tutti E' una notizia riservata E poi ci sono gli All Stars La formazione culta bruttese con personaggi del mondo dello spettacolo ed ex-Glorie del Pescara Una squadra che esiste ormai in diversi anni è presiduta dal Dottor Monesto Lacci e si occupa solo di perificenza non scendono il campo soltanto per perificenza Sarà un piacere rivedere i giocatori che hanno fatto la storia del Pescara a correre calci al pallone e infatti in maniera egregia Sì, in maniera storica E tra di loro c'è anche un personaggio attuale del Pescara che è il presidente del Pescara dei Sebastiani non ha trascorsi da calciatore o forse li ama a livello giovanile così però che non sia giunto venti nella vita Venti, Marco Ferrari 19, Camarata E chi manca? Chi manca? Eh, vedi, non mi hanno dato il numero, ce l'ho Antinolfi, numero 9, l'applauso No, la crucial star Io non ti lascio amore son troppo delicato per fare il soldato oppure la corvée Oh, rotoli, rotoli, rotoli i parenti delle vittime e le attrazione che vi dobbiamo e vi ringraziamo per essere qui Poi vi chiederemo di un ragazzo che ci sono in canto grazie, grazie di cuore Grazie 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 Vedi piano, accorti dell'applauso del pubblico. Venite, venite in campo. Vedi piano, accorti dell'applauso del pubblico, accorti dell'applauso del pubblico. Vedi piano, accorti dell'applauso del pubblico, accorti dell'applauso del pubblico. Grazie per voi per l'applauso del pubblico. Grazie per voi per l'applauso del pubblico. Grazie per voi. Vedi piano, accorti dell'applauso del pubblico. Grazie per voi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa manifestazione di questa ragazza, di questo regolamento, di questo regolamento, di questo regolamento, di questa ragazza giusto. Grazie a tutti qua, grazie a tutti.